E' finito gli arresti domiciliari un medico-ortopedico di Tricasa in servizio presso una nota clinica di Casarano a far scattare le indagini nel giugno scorso alla denuncia di una donna presentata ai carabinieri della sezione operativa della compagnia di Casarano che durante le indagini hanno scoperto altri quattro episodi analoghi. Cinque in tutto i casi di presunta violenza sessuale aggravata che hanno portato il GIP della Procura di Lecce, Laura Liguori, a firmare la misura cautelare eseguita proprio il 25 di novembre nella giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Stando a quanto raccolto dagli inquirenti anche tramite intercettazioni audiovisive, il medico avrebbe costretto diverse pazienti a subire atti sessuali durante le visite svolte presso la clinica e l'aggravante consiste proprio nel fatto di aver abusato della propria autorità. Le cinque donne, dopo essere state fatte adagiare sul lettino, sarebbero state oggetto di attenzioni sessuali. Il medico risponde anche di lesioni personali aggravate perché in una circostanza durante delle manipolazioni avrebbe procurato a una delle pazienti una cervicalgia per commettere violenza sessuale.